Unione Cameri, crescono le imprese in rosa, il Molise prima regione del centro-sud per le imprese al femminile. Decesso per disidratazione, atti sequestrati, i familiari del sessantenne deceduto al Veneziale si rivolgono alla procura di Isernia. Campo basso, cambio della guardia al Mario Pagano, il dirigente scolastico Francesco Fasciano subentra al rettore Aldo Barletta. Calcio, esordio vincente per il campo basso, Lega Pro, una doppietta di Morante, stende l'Interreggio, Serie D, Ok, Lagnone, K.O. Termoli e Isernia. Buongiorno a tutti e ben trovati dalla redazione di Molise TV, imprese e lavoro in primo piano. L'Unione delle Camere di Commercio del Molise fa il punto della situazione. Se da un lato in regione l'occupazione maschile segna il passo in maniera preoccupante, le donne del Molise sembrano resistere bene alla crisi. Buono è il risultato, infatti, il numero delle imprese in rosa, secondo lo studio di Union Camere, è sempre maggiore il numero delle donne che decidono di avviare un'attività nel settore dei servizi. Ma vediamo il contributo. L'Italia è indietro sia in termini di produttività sia nell'innovazione. Le imprese sono spesso troppo piccole e non riescono ad ammodernarsi. Quindi, sebbene tra il 2000 e il 2010 la produttività ha registrato un più 1,4 e l'occupazione un più 7,5, il Paese rimane ancora fanalino di coda dell'Unione Europea. Sono questi i dati emersi dagli ultimi rapporti dell'Istat che continuano a destare forte preoccupazione. Se nel panorama nazionale per l'economia e il mondo del lavoro non si riscontrano andamenti positivi, per il Molise le cose non cambiano poi di molto, stando proprio agli ultimi rapporti diffusi da Union Camere. Unico dato positivo continua ad essere quello delle imprese avviate da titolari appartenenti al gentil sesso, che vede sullo scalino più alto del podio, tra le regioni del centro meridione, proprio il Molise, con un significativo 29,9%. Non solo, sempre più donne scelgono di diventare imprenditrici e lo fanno da sole attraverso ditte individuali. In Molise la percentuale delle ditte individuali avviate da donne è pari al 78,6% e risulta essere la più alta nel sud Italia e nelle isole. Ancora poche invece in regione le forme imprenditoriali più complesse, che vedono attardata la regione rispetto al resto del paese. Se 22 sono le imprese in più in Molise nel settore servizi, 131 sono quelle perse per l'agricoltura e 15 quelle dell'attività manifatturiera. Sul fronte dell'occupazione invece in Molise sono 2.690 le assunzioni previste dalle imprese nel corso del 2012, contro le 4.130 entrate programmate nel 2011, pari al 34,9% in meno di assunzioni previste. Dunque, tra le regioni italiane, il Molise è quella che prevede una contrazione maggiore, collocandosi in ultima posizione. A fronte di 3.480 uscite, il saldo programmato, pari a 800 unità, rappresenta il peggior saldo occupazionale dal 2009. Così come nel resto d'Italia, su questo rallentamento delle entrate previste potrebbe aver inciso l'esito ancora incerto al momento dell'indagine della riforma del mercato del lavoro. E ora la cronaca. Arrestato per tentata violenza un 48enne originario di Trivento, dopo aver palpeggiato una donna su un autobus urbano, è accaduto a Roma. L'uomo, approfittando del gran numero di passeggeri che viaggiavano a bordo dell'autobus della linea 46 e mentre stava percorrendo via nazionale, ha rivolto le sue attenzioni su una 32enne di nazionalità moldava. La donna ha reagito immediatamente, iniziando a urlare nel tentativo di sfuggire alle focose avance del maturo molisano. Per un caso fortuito, sul mezzo si trovavano anche due carabinieri in borghese impegnati in un servizio antiborseggio. I militari dell'arma hanno immobilizzato e tratto in arresto il 48enne che stava tentando di fuggire. Oggi il processo per direttissima. Ancora la cronaca, panico e concitazione, nell'ospedale Cardarelli di Campobasso, teatro della bravata di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, armato di pistola, giocattolo, si è presentato nei corridoi della struttura sanitaria dicendo di dover regolare i conti con la sua ex fidanzata. La giovane donna, terrorizzata, ha chiesto aiuto cercando di rifugiarsi in uno spazio più sicuro. Una volta scattato l'allarme, sono subito intervenuti i vigilanti che operano all'interno dell'ospedale, mentre l'uomo seguitava a inseguire minacciosamente l'ex fidanzata. Quando poi sul posto sono arrivate i due volanti del commissariato, l'aggressore ha pensato bene di darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. E saranno i magistrati di Isernia a chiarire cosa è successo al 60enne Rocco Di Santo, originario di Sesto Campano e deceduto lo scorso 22 agosto, sembra a causa di disidradazione. Di Santo era stato trasferito da una casa di riposo privato all'ospedale veneziale. A sporgere una circostanziata denuncia, suo fratello che chiede di accertare se il decesso possa essere riconducibile a precise responsabilità della casa di riposo dove dimorava. Ma vediamo il servizio di Arianna Gentile. Rocco Di Santo era affetto dal morbo di Alzheimer. Venne sottoposta ad un intervento chirurgico per un aneurisma cerebrale, ma dopo l'operazione le sue condizioni di salute peggiorarono. Così lo scorso 10 luglio la famiglia del 60enne originario di Sesto Campano pensò di affidarlo alla casa di riposo del posto, dove il suo stato di salute migliorò. I familiari a questo punto decisero di riportarlo a casa, nonostante ai loro occhi appariva un po' dimagrito, ma la struttura privata vietò il trasferimento. L'assistente sociale impedì anche ogni contatto con l'uomo, richiesta che fece insospettire e preoccupare la famiglia, che iniziò così a chiedersi cosa stesse accadendo. Poi il 15 agosto alle 22.30 venne trasferito all'ospedale veneziale di Sernia, perché aveva la febbre alta. La sorella del 60enne venne immediatamente avvisata dai sanitari, che le dissero di non preoccuparsi perché Rocco non era in pericolo di vita. Ma quando il giorno dopo i familiari si recarono presso il reparto di medicina del nostro comio Pentro, si resero conto che il congiunto era invece in condizioni molto gravi. Non si trattava di una semplice febbre, infatti nella cartella clinica, ora al vaio degli inquirenti, si attestava che Rocco di Santo era stato ricoverato al veneziale in condizioni di coma vigile, da insufficienza renale acuta grave con stato di disidratazione. Poi il 22 agosto il decesso, alle 6.10 del mattino. Per questa morte assurda non si dà pace la famiglia, che ha presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Sesto Campano per chiedere di accertare se il decesso è attribuibile a responsabilità della casa di riposo. La magistratura di Sernia dovrà inoltre chiarire perché alle sorelle della vittima è stato negato di riprendere gli abiti dell'uomo dall'armadietto della struttura privata per anziani. Ma altri dubbi vanno sciolti. Come è stato possibile che Rocco di Santo sia arrivato in ospedale disidratato, veniva nutrito adeguatamente, beveva acqua a sufficienza, era vigile? Le risposte la famiglia le attende dalla procura che ha avviato le indagini. La procura della Repubblica di Campobasso ha deciso l'archiviazione dell'inchiesta circa la gestione dei fondi relativi all'articolo 15 finalizzati alla ripresa economica del Molise. Secondo l'organo inquirente, Ioreo si sarebbe mosso nel rispetto della legge utilizzando i fondi stessi in maniera corretta. La stessa magistratura inquirente del capoluogo ha invece chiesto il rinvio a giudizio per il Presidente della Regione nell'ambito dell'inchiesta sull'allargamento dell'area dei comuni colpiti dal terremoto il 31 ottobre 2002. Siamo preoccupati per la grave situazione di degrado in cui versa all'area ridosso della foce del Trinio perché potrebbe rappresentare un serio pericolo per la salute dei cittadini lo afferma in una nota il consigliere regionale dell'Italia dei Valori Cristiano Di Pietro assieme a quello del comune di Montenero di Bisaccia Antonio Daulerio. La questione sarà anche oggetto di un'interrogazione all'assessore regionale all'ambiente Luigi Velardi al sindaco del comune Rivierasco Nicola Travaglini allo scopo di conoscere quali iniziative saranno adottate per la bonifica dell'area in questione ridotta a discarica. Una buona notizia per gli appartenenti alle categorie protette. Il comune di Montaquila ha assegnato due borse lavoro ad altrettanti soggetti svantaggiati o disoccupati. Questi avranno il compito di provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle strade cittadine. Ma vediamo il servizio della nostra redazione di Zernia. L'Unione Europea, la Regione Molise e il comune di Montaquila hanno concesso un contributo pari a 5.400 euro per il finanziamento di due borse di lavoro. Il comune della Valle del Volturno, grazie a questi fondi, si è impegnato a realizzare il progetto al fine di promuovere l'integrazione e il reinserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo occupazionale, favorire l'inserimento socio-lavorativo anche degli immigrati, migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre le disparità in genere. Il progetto era destinato agli adulti disoccupati da almeno tre mesi in condizioni di indigenza o agli ultracinquantenni in stato di disoccupazione. Le domande fatte per venire al protocollo comunale sono state numerose, ma soltanto due soggetti questa mattina hanno ricevuto le borse di lavoro. I vincitori del concorso adesso dovranno provvedere alla manutenzione del verde e del patrimonio pubblico. Allora è stato anche affidato l'incarico di tenere pulite le strade. Ogni borsa lavora avrà la durata di sei mesi e i soggetti destinatari percepiranno uno stipendio mensile di 500 euro. I borsisti sono stati scelti secondo specifici criteri. Per accedere al concorso infatti i soggetti interessati all'iniziativa hanno dovuto dimostrare di possedere dei requisiti indispensabili e obbligatori e una commissione ha poi provveduto a valutare in maniera oggettiva le singole situazioni di svantaggio economico e sociale. La Regione Molise ha revocato il contributo di 25 mila euro al Comune di Termoli destinato a coprire le spese effettuate per ospitare l'undicesima tappa del Giro d'Italia il 17 maggio del 2011. L'ente di Via Genova non ha liquidato la somma a causa della mancata rendicondazione delle spese sostenute per l'evento rosa. In compenso la Regione Molise ha destinato al Comune Adriatico un nuovo contributo di pari importo Termoli per l'organizzazione del cartellone estivo. Lotta alla mafia e alla tratta degli esseri umani in agricoltura nel ricordo del generale Carlo Alberto Dallachiesa e del bracciante Gorghe Radu. E' questo il titolo dell'evento in programma per questo pomeriggio a Termoli organizzato dagli ecologisti democratici insieme all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e alla Vicepresidenza della Commissione Lavoro della Regione Molise. A partire dalle ore 18 presso l'Aula Adriatico della locale sede dell'Università degli Studi del Molise avrà inizio il dibattito al quale prenderà parte l'Onorevole Michele Bordo, componente della Commissione Parlamentare Antimafia. Nell'incontro non sarà affrontato solo il valore e l'impegno verso lo Stato da parte del generale Dallachiesa ma anche il lavoro e lo sfruttamento dei lavoratori migranti nelle campagne del Basso Molise per lo più provenienti da Nord Africa e dall'Est Europa. Cambio della guardia alla guida del convitto Mario Pagano di Campobasso con la riapertura dell'anno scolastico sarà il dirigente scolastico Francesco Fasciano a prendere il posto del rettore Aldo Barletta. La strategia operativa è l'offerta formativa del nuovo dirigente nell'intervista che segue. Il convitto nazionale Mario Pagano a Campobasso è una di quelle istituzioni che incarnano l'essenza del capoluogo di Regione. Campobasso offre nel cuore della città una struttura immersa nel verde dove migliaia di studenti nel corso dei decenni hanno vissuto i propri anni della gioventù. Il convitto nazionale Mario Pagano è tra gli addetti ai lavori un posto particolarmente ambito e dopo l'addio del rettore Aldo Barletta tocca al professor Francesco Fasciano prenderne in mano le redini. Mi sento fortunato ed onorato di essere il nuovo dirigente rettore del convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso perché è una scuola prestigiosa e un patrimonio culturale storico della città. Il rettore Fasciano punta ad evitare che il convitto rientri a far parte delle nuove normative sul ridimensionamento scolastico puntando molto sulla sicurezza del personale all'interno della scuola. Uno degli obiettivi principali è il dimensionamento scolastico del Mario Pagano perché il convitto nazionale Mario Pagano non può essere aggregato a un'altra scuola. Poi l'altro principale che mi interessa di più è la sicurezza scolastica di tutto il personale non solo degli allievi, degli alunni ma dei docenti, del personale ATA e questo è uno degli obiettivi principali di cui ne ho parlato anche al signor sindaco che a sua volta ha preso delle misure per il convitto nazionale Mario Pagano perché avrà come tutte le altre scuole una corsia preferenziale per la sicurezza. L'altro aspetto principale è il clima sereno, tranquillo che fino a ieri c'è stato e senza altro continuerà. Tra le ambizioni di Fasciano c'è lo sviluppo del liceo europeo che dovrà fungere da traino per il convitto nazionale Mario Pagano. L'obiettivo principale è il liceo europeo perché noi avevamo all'inizio dell'entrata in vigore dell'istituzione del liceo europeo circa 300 alunni e quindi questo è un obiettivo principale di aumentare il numero affinché il convitto possa essere una scuola unica a sé come del resto tutti i convitti nazionali d'Italia sono scuola a sé senza aggregazione. Certamente si mira un po' una formazione e una cultura europea. Il convitto già organizza diverse gite europee, diciamo in Bruxelles, in America una crociera anche perché dobbiamo migliorare le lingue. Oggi la lingua è l'essenziale per tutti i cittadini. E ora come ogni lunedì passiamo alla rubrica all'occhio che uccide a cura di Informa Molise a firma di Aigor. Il premio di produttività per gli anni 2009 e 2010 erogato agli amministratori della Solagrital, cooperativa oggi prossimo al commissariamento, chiama in causa direttamente la regione Molise e colui che ha impostato negli ultimi anni le politiche economiche. L'assessore alla programmazione Gianfranco Vitaliano. Il premio ammonta 100.000 euro complessivi per i due anni e per l'intero consiglio di amministrazione. È stata la regione Molise a deliberarlo. Quindi la cosa rientra nelle competenze piene dell'assessore stratega, dell'uomo che ha gestito il bilancio della regione Molise come fosse il condominio nel quale dimora. Un uomo che, di quanto fatto in passato nei pani di ministro delle finanze molisane, non ha troppa voglia di parlare. Anzi, non ne ha proprio nessuna. L'ultima volta che ha parlato di uno zuccherificio e su quel gran giocattolone che è Facebook ha chiesto di accertare le responsabilità di quanto era accaduto. Poi ha pensato di essersi tirato una barbabietola sui piedi e da allora ha osservato un religioso silenzio su tutte le vicende delle attribolate partecipazioni industriali regionali. Eppure qualcosina sarebbe il caso la dicesse che spiegasse perché, dopo anni di delibere di giunta e di consiglio, di milioni di euro profusi nello zuccherificio e nella sola Agrital, di partecipazione alla ricapitalizzazione di Arena, dopo la costituzione della GAM, dopo commissari forse straordinari e consiglieri di amministrazione, magari ordinari ma tutti lautamente pagati, dopo che Molise Dati è diventata in house e prima era fuori house. Dopo tutto questo bailam, per non parlare di film Molise Servizi SRL, siamo rimasti in braghe di tela e in migliaia di famiglie piene di casse integrati o peggio, licenziati. L'assessore ci ha fatto pure indebitare con i bond e con i suoi derivati per risanare lo zuccherificio e oggi non può stare in silenzio come nulla fosse e dedicarsi anima e corpo a pensare a come far fuori Michele Iorio con l'aiuto del PD o dei suoi pezzi che girano intorno a San Martino in Pensilis. Non può scorrazzare sulla Bifernina per andare a trovare il suo amico, Remo Grande o Grande Remo che dir si voglia, e non spiegare ai molisani dove sono finite le decine di milioni di euro impiegate per salvare questi campioni di produttività. Non è nel suo stile, uno stile fiero e sicuro di sé, non è nelle sue corde, quelle di chi non ha mai voluto sfiorare un dubbio e che al silenzio ha sempre preferito la roboante sicurezza del proprio eloquio avvolgente. Quindi, egregio assessore, la imploriamo, parli, ci dia un segno della sua confortante e a volte anche ingombrante presenza. No alla repressione contro chi contesta alle destre, lo ha affermato il segretario nazionale di rifondazione comunista Federazione della Sinistra, Paolo Ferrero. A seguito della condanna di una settimana di carcere è messa a carico di sette militanti antifascisti. Gli stessi il 28 ottobre dello scorso anno avevano manifestato senza preventiva autorizzazione, scandendo slogan e canti antifascisti contro un'iniziativa politica dei militanti sernini di Casa Pound. Per i sette la condanna è stata commutata in una sanzione pari a 1.350 euro ciascuno. E ora guardiamo insieme le previsioni del tempo. Previsioni meteo per martedì 4 settembre. Non cambia il contesto, siamo ancora ai margini di un vortice centrato nei pressi della Sardegna, che si manifesta con una giornata variabile con rovesci diurni sulla dorsale molisana. Temperature in lieve calo nei minimi. Venti deboli moderati in prevalenza occidentali o meridionali, mari poco mossi. Temperature. Campo basso, minima 16, massima 22. Isernia, minima 15, massima 22. Termoli, minima 20, massima 28 gradi. E per questa edizione è tutto. Io vi auguro una serena giornata e passo la linea allo sport. Grazie. 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 Grazie.